Prendiamo in atto innanzitutto della sentenza della consulta, credo che confermi l'impianto del Jobs Act e consenta di lavorare per implementare i contenuti della riforma, per estendere le tutele, per rafforzare il mercato del lavoro. Siamo contenti della pronuncia della consulta, lo avevamo chiesto e lo avevamo detto. L'articolo 18 è un elemento fondamentale che ha ridato la possibilità alle imprese di creare lavoro. È una sentenza che non deve essere caricata di particolari significati politici perché è perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte. La valuto positivamente, nel senso che sull'articolo 18 rimane quello che è stato deciso dal Jobs Act e per quanto riguarda i voucher e gli appalti è un referendum che si potrà fare o che potrà essere modificato in via legislativa. La nostra proposta è chiaramente quella di reintrodurre l'articolo 18 per una maggiore tutela dei lavoratori. La buona notizia è che non rischiamo la reintroduzione dell'articolo 18 che era l'obiettivo principale della CGL, la cattiva notizia è che la sentenza serve soprattutto a impedire che si possa tornare al voto immediatamente. Purtroppo milioni di cittadini che hanno firmato quel referendum perché si potessero esprimere sull'articolo 18 vedranno un loro diritto negato. La sentenza della consulta è molto grave perché viene tolta la possibilità ai cittadini di scegliere e quando viene compressa la possibilità dei cittadini si riducono gli spazi di democrazia.